ciao ragazzi eccomi qua e bentornati al mio canale mi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati qualora lo vorrete per i miei contenuti questo è un video un po insolito nel senso che non ho fatto mai un video per introdurre poi un'altra persona quindi a seguito di questo video ci sarà la persona che adesso andrò a presentarvi la persona con cui ho collaborato ho fatto questa collaborazione premetto che lei comunque collabora con un'altra azienda però ha voluto comunque io ho mandato una box dei miei prodotti ha voluto comunque provare questi prodotti lascerò poi la parola a lei e darà lei la sua della sua testimonianza e quindi sono sono entusiasto di questa cosa mi fa veramente piacere perché comunque sentirete poi le sue parole mi è rimasta veramente veramente soddisfatta non poteva essere altrimenti perché come ripeto questi prodotti sono fantastici quindi poi ognuno libro chiaramente di usare quelli che vuole ma quando dei prodotti sono buoni naturali e funzionano è impossibile non rimanere soddisfatti ecco e lei vi dico subito ora potete trovare come si chiama monica turzi il suo canale youtube appunto si chiama monica turzi make up artist è un canale molto molto interessante quindi date anche una mano a lei a farla a farla crescere i suoi video sono veramente veramente interessanti credo che non ho altro da non ho altro da aggiungere quindi lascio la parola a monica ciao ragazzi ciao a tutti sono monica turzi make up artist estetista ed onico tecnica nella box ho trovato un detergente levigante agli agrumi per pelli normale a tendenza grassa un altro prodotto che ho trovato nella box è una maschera è una maschera purificante argilla e menta il terzo prodotto che massimiliano gentilmente ha voluto inviarmi è uno scrub istantaneo rigenerante ai frutti rossi è questo gel detergente levigante agli agrumi per pelli normali a tendenza grassa è un gel detergente agli agrumi con perle di jojoba rimuove l'impurità e il trucco lasciando la pelle pulita e rivitalizzata è una maschera purificante menta e argilla maschera alla menta a base di argilla migliora l'aspetto dei pori e rivitalizza la pelle senza parabeni aggiunti ed è dermatologicamente testata il terzo prodotto che andremo a provare insieme è uno scrub istantaneo rigenerante ai frutti rossi è un esfoliante ricco di antiossidanti con semi di bacche rosse lascia la pelle più liscia e pulita senza parabeni aggiunti senza solfati aggiunti ed è dermatologicamente testata vi invito a contattare massimiliano are vi lascerò tutti i suoi link per poterlo contattare massimiliano ha un profilo su linkedin ed ha anche un canale youtube e lo trovate come massi are